Ho recuperato su Amazon Prime Video il nuovo film di Ron Howard dal titolo 13 vite, approdato esclusivamente sulla piattaforma dal 5 agosto del 2022 senza purtroppo passare per le sale. La pellicola in questione racconta dell'incidente di Tem Luang, realmente avvenuto il 23 giugno del 2018 quando 12 ragazzini di età compresa fra gli 11 e i 17 anni e il loro allenatore di circa 25 anni rimasero bloccati in questa grotta in Thailandia durante il periodo delle piogge monsoniche rischiando di morire. Ron Howard con una regia attenta, precisa, ma anche al cardiopalma vuole raccontarci il lavoro dei sommozzatori perché questo lungometraggio è mostrato forse fin troppo dal punto di vista di coloro che dovrebbero salvare i ragazzi e non tanto dei ragazzini rimasti intrappolati in queste grotte che si estendevano con dei cunicoli lunghissimi, tutti allagati, pieni di acqua e realmente pericolosi. Il film dura circa 2 ore e 20 e vi posso assicurare che la tensione si può tagliare a fette, vi posso assicurare che almeno per quanto riguarda me stesso sia stato incollato al divano fino a che non sapevo qualcosa in più, anche perché ammetto che non ricordassi la storia vera, quindi questo film mi ha fatto riaffiorare i ricordi e mi ha anche dato delle risposte visto che dei dettagli non li sapevo proprio e me ne ero dimenticato. Quindi vi posso assicurare che Ron Howard dirige uno dei suoi migliori film almeno negli ultimi anni e Legia Americana sì, tanti lo avevano bocciato, uscì nel 2020 anch'esso su una piattaforma streaming, io lo trovai invece interessante, modesto per quanto niente a che vedere con un 13 vite che letteralmente riesce a catapultarti nel centro dell'azione e farti stare per tutto il tempo della durata della pellicola con il fiato sospeso, con l'ansia, con l'angoscia. Ci sono delle riprese subacque estremamente capaci di tenere lo spettatore incredulo anche di fronte a queste inquadrature in luoghi stretti, angusti. I nostri sommozzatori dovranno muoversi in dei cunicoli che sono grandi tanto quanto le loro spalle, quindi devono strisciare in delle lunghe, in dei lunghi corridoi, restando schiacciati, capovolgendosi con l'acqua che praticamente copre ogni cosa, non si può respirare, bisogna fare quest'immersione che dura circa sette, otto, a volte nove ore e arrivare nelle varie stanze di questa grotta fino a trovare i ragazzi che sicuramente non stan bene e che da un momento all'altro si sono ritrovati bloccati in questa grotta perché le piogge sono arrivate all'improvviso e vi posso assicurare che ogni scena in cui i sommozzatori si muovono in questi spazi ristretti vi farà mancare l'aria, vi farà stare proprio in apprensione. C'è una cura maniacale per anche rendere realistica ogni sequenza. È stato ricostruito quasi tutto nello studio seppur si sia andati realmente in Thailandia per riprendere gli esterni e così via però c'è stato c'è stato un grande lavoro in studio e vi posso proprio confermare quanto questo film possa essere realistico. Nel cast abbiamo anche dei grandi nomi come attori perché uno dei sommozzatori è interpretato da Viggo Mortensen cioè Rick Stanton e poi abbiamo Colin Farrell nei panni di John Volantan e poi abbiamo Joel Edgerton che ultimamente abbiamo visto nella miniserie Obi-Wan Kenobi su Disney Plus che interpreta Richard Harris e quindi vediamo anche come praticamente questi sommozzatori americani andranno ad aiutare i sommozzatori Navy SEAL tailandesi perché non si riusciva ad arrivare alla grotta, alla stanza in cui questi ragazzi stavano cercando di sopravvivere. Se dovessi visto che fino ad adesso ho parlato dei pregi di questa pellicola molto tesa che sicuramente vista in sala sarebbe stata bellissima ancora di più se dovessi trovare dei difetti come ho detto poco fa ecco mi è mancato un po' il punto di vista dei ragazzini intrappolati. Io ho capito che Ron Howard volesse mostrare la prospettiva dei sommozzatori quindi volesse anche raccontarci i supereroi odierni quali siano perché questi sommozzatori sono realmente dei supereroi, hanno fatto il possibile per raggiungere questi ragazzi e provare a salvarli. Non voglio nemmeno dirvi se ci riescono oppure no perché magari come me vi siete dimenticati la storia vera oppure non la conoscete, non ne siete particolarmente ferrati su di essa quindi non voglio rivelarvi niente anche perché il film riesce a tenervi costantemente in apprensione. Vi posso solo dire che per quanto abbia apprezzato il mostrare ogni dubbio, il sacrificio umano per cercare di salvare altri esseri umani dall'altro lato mi sono reso conto che questi ragazzi sono stati lasciati un po' in disparte visto che quando anche vengono ritrovati perché ad un certo punto state tranquilli li ritroveranno poi non vi dico se riusciranno a portarli in salvo oppure no però anche quando li ritroveranno avrei voluto percepire più sofferenza, avrei voluto percepire il dolore di questi ragazzini che invece passa un po' in secondo piano cioè non ti dà l'idea il film che siano passati tanti giorni quando vengono ritrovati perché forse soffermandosi così poco sulle loro vite sul loro tempo trascorso all'interno di queste stanze tetri oscure senza ossigeno si va un po' a delineare in maniera confusionaria questa loro sofferenza percepita provata e che li porterebbe anche a svenirsi non lo so a stare male senza cibo senza senza acqua cioè sono immersi nell'acqua ma non possono usarla quindi ecco se dovessi trovare un difetto avrei voluto visto che il film dura anche tanto due ore e venti avrei voluto che ci si soffermasse più su di loro sarebbe stato forse intelligente se la pellicola si fosse quasi suddivisa in due atti il primo atto tutto dal punto di vista dei ragazzi il secondo atto tutto dal punto di vista dei sommozzatori o viceversa però non tenere così in secondo piano la vita che sta pian piano sgretolandosi di questi ragazzini rimasti intrappolati nella grotta per quanto il film mi abbia intrattenuto appassionato fatto stare male fatto proprio percepire una sensazione ansiogena ammetto che questa cosa poteva essere sviluppata meglio resta il fatto che anche la sceneggiatura di william nicholson è degna di nota gli attori sono tutti bravissimi ripeto ogni sequenza in queste grotte in questi cunicoli ristretti dove le persone fanno fatica a muoversi mi toglievano l'aria mancava a me il respiro perché poi mi immaginavo ma se ci fossi io lì vi immaginate anche solo restare senza ossigeno a 4 5 6 chilometri dopo tre ore che nuoti dall'entrata della grotta non puoi fare niente non puoi dire esco cambio la bombola muori quindi ci sono anche delle sequenze in cui sicuramente i più fragili e deboli alla visione potrebbero assolutamente provare una sorta di disagio chi soffre di claustrofobia beh questo film sarebbe una medicina non tanto dolce anzi purtroppo fin troppo amara quindi che posso dirvi io l'ho apprezzato veramente tanto mi spiace che una pellicola di questo tipo specialmente diretta da un regista che io apprezzo come ronauer non la si possa essere vista al cinema perché anche solo immaginare il dolby suro c'è un grandissimo lavoro sul sound design se io devo se io devo immaginare una pellicola del genere vista al buio della sala sul grande schermo con il dolby surround beh immagino emozioni a non finire ed invece mi sono piaciute le musiche mi sono piaciuti anche ogni mi sono mi è piaciuta la fotografia ripeto mi è piaciuta la messa in scena sull'incidente di tam luang avevano già diretto un documentario reperibile su disney plus ma anche un film che non aveva avuto tanto successo che se non ricordo male si intitolava acqua alla gola che non ho visto ma leggendo le recensioni non ne parlano così bene questo è veramente un lungometraggio degno di nota a mio parere diverse spanne sopra elegia americana che per certi aspetti lasciava un po il tempo che trovava per quanto interessante quindi sarei molto molto curioso di sapere la vostra adesso io farò una parte spoiler per dirvi più nello specifico anche come vada a finire questa storia per dirvi quali siano i momenti che più mi abbiano colpito ma attendo di sapere la vostra nella sezione commenti ricordandovi che il film è disponibile gratuitamente su amazon prime video per chi fosse abbonato alla piattaforma e che nelle info trovereste anche tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana un caro saluto meglio tardi meglio tardi che mai ho recuperato 13 vite ma sono tanti lungometraggi da vedere anche sulle piattaforme che pian piano vedrò e adesso passo ad una minima parte più rivelatrice allora chiedo scusa se un evento così importante anche un salvataggio così importante non me lo ricordavo ammetto di non star molto dietro alla cronaca quindi sinceramente ricordavo dell'incidente di tem luang ma non come fosse andato a finire sono stato in apprezzione anche forse perché la storia non me la ricordavo quindi fino alla fine mi domandavo riusciranno a salvare questi ragazzi ho amato l'introspezione dedicata ai protagonisti vigo mortensen colin farrell quindi rick john richard i tre sommozzatori fra cui richard anche anestesista che si sentono in dovere di salvare questi ragazzi che ritroveranno se non ricordo male il 9 luglio cioè diversi giorni dopo li ritroveranno e poi li salveranno circa 17 giorni dopo quindi dal 28 giugno li ritroveranno il 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 9 luglio se non ricordo male poi il anzi il 2 luglio e poi il 9 luglio li salveranno quindi avere anche questa questo peso questo peso perché i sommozzatori che si uniranno poi ai nevi sil tailandesi hanno il compito di riportare sani e salvi i tre i dodici ragazzi e l'allenatore sulla terraferma portarli via da questa grotta il problema è che come li fai tornare indietro perché anche una volta che li ritrovi e sono felicissimo sono felicissimi quando li rivedono e gli fanno i video li fanno vedere ai genitori li mandano le lettere li portano il mangiare però come li fai tornare indietro gli addestri ma in uno spazio dove manca l'ossigeno dove questi non hanno mangiato stanno malissimo cioè gli addestri un po per insegnar loro a nuotare ma corsi di sub in quel contesto lì beh sono un po poco come poterli definire raccomandabili quindi cosa fare a un certo punto al nostro rick stanton viene l'idea di sedarli certo si rischia si andrebbe contro al giuramento di ipocrate comunque rischi di ucciderli però morirebbero lo stesso perché se tu aspetti che la grotta torni ad essere sgombra dall'acqua se tu aspetti la fine delle piogge monsoniche passeranno dei mesi li vuoi far tornare indietro nuotando morirebbero li vuoi far tornare indietro mesi dopo morirebbero lo stesso quindi in un modo o nell'altro meglio provare a portarli fuori sedati così c'è il rischio che potrebbero morire è vero però morirebbero allo stesso modo quindi proviamoci e le scene anche in cui i sommozzatori entrano cominciano a sedarne uno per uno quindi il primo giorno ne portano via quattro e poi altri cinque cioè resti proprio in allerta sei in ansia perché ti metti nei panni dei sommozzatori dei veri supereroi chi sono i veri supereroi persone come rich stanton john volant and richard harris questi sono dei veri supereroi se non ci fossero stati loro così come i sommozzatori nevi sil tailandesi questi ragazzini sarebbero morti ed invece no ti metti anche nei panni dei genitori per questo per questo per questa tragedia chiamiamola così quella che poteva essere una tragedia per meglio dire poi c'è stato il salvataggio però per questo incidente si sono mobilitate migliaia di persone persone che hanno fatto il possibile da tutte le parti del mondo per aiutare delle persone cioè hanno proprio anche dato la possibilità ai sommozzatori nevi sil di utilizzare i propri campi perdendo il raccolto per cercare di frenare quest'acqua che entrava bruscamente all'interno delle grotte ron haward ci mostra bene l'unione che fa la forza il lavoro del gruppo per questo dico che ci si poteva soffermare un po di più sui ragazzi perché effettivamente li ritrovano diversi giorni dopo e non sembrano così malmessi specialmente quando passano più di 11 giorni 12 13 14 hanno mangiato poco e niente ti viene un po spontaneo dire però se tu mi avessi mostrato anche un po di più del loro trascorso nella grotta sarei entrato più in sintonia con essi va bene la prospettiva dei sommozzatori ma in due ore e venti di film ci poteva stare anche quella mezz'oretta dedicata solamente ed esclusivamente ai ragazzi ora non dico di fare come Clint Eastwood che girò due film durante la guerra vi ricordate uno dal punto di vista di uno e degli altri però sarebbe stato bello immaginatevi lo stesso film uno dire uno dal punto di vista dei sommozzatori uno dal punto di vista dei dei bambini rimasti bloccati allo stesso tempo però il film riesce riesce a conquistare il pubblico lo spettatore riesce ad annientarlo quasi perché io sono stato male la scena in cui il il nevis il thailandese ad un certo punto resta senza ossigeno perché in questi cuniculi stretti la bombola resta anzi il boccaglio resta bloccato tra le rocce quindi l'aria sprizza via lui prova a nuotare ma si vede pian piano che le palpebre si chiudono e muore soffocato quando ancora mancavano chilometri e chilometri e chilometri e chilometri ma anche quando devono portare via i bambini sedati e quindi cade la siringa con la chetamina per farli addormentare un rischio incredibile ma ce l'han fatta ce l'han fatta e quando vedi anche alla fine del film le vere immagini di questi ragazzi che festeggiano che ce l'han fatta tagliando una torta di spongebob beh la commozione arriva spontanea poi tu ti metti nei panni di questi persone di queste di queste persone che potrebbero essere accanto a noi questi salvatori se non ci fossero stati loro questi ragazzi sarebbero morti quindi è quasi un film supereroistico questo perché questo è il superomismo nella realtà e devo dire che ron haward lo tratta bene lo tratta bene racconta di supereroi realmente esistenti che forse hanno salvato che forse non saranno spider man iron man thor hulk ma hanno salvato diverse vite e continueranno a farlo quindi è sempre importante vedere pellicole di questo tipo le riprese si sono svolte per la maggior parte ho letto su internet in australia ci sono stati dei degli stop causa covid però ecco devo dire che sia stato un film decisamente importante da vedere degno di nota e che ha saputo farmi battere forte il cuore tenermi in ansia in apprezzione e vi chiedo di farmi sapere la vostra ora che ne ho parlato anche in maniera un po più spoiler qua sotto nella sezione commenti così possiamo confrontarci un caro saluto ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo video